Ancora strascichi di polemiche per la partenza ad handicap delle elezioni al secondo circolo didattico di Angri. Desta a scalpore l'esternazione del primo cittadino in occasione della cerimonia di apertura dell'anno scolastico, la foga usata contro il dirigente scolastico. Nella pubblica inaugurazione infatti dell'anno scolastico, Angrese, il primo cittadino Mauri, ha pubblicamente accusato il dirigente scolastico Alfonso Longobardo di essere l'unico responsabile della mancata apertura della scuola nei tempi previsti. Mauri avrebbe additato Longobardi di fronte ad una vasta platea di genitori di non avere comunicato l'urgenza dei lavori al comune e ai responsabili, un'accusa che il dirigente Longobardo restituisce al mittente con prove alla mano. Non è possibile che in un paese così importante, con un'utenza così importante, tra l'altro l'utenza che io vivo in prima persona perché abito a 300 metri della scuola e anche il sindaco è molto vicino a questa zona, non è possibile che si possa continuare, si possa non perpetrare queste situazioni. In realtà il sindaco sa bene, se si è informato veramente, che la scuola per quanto riguarda la manutenzione sia ordinaria che straordinaria non è responsabile, la scuola fa solo richieste e le richieste le ha fatte già dal mese di maggio, abbiamo qua tutta la documentazione che possiamo mettere a disposizione di tutti quelli che ce la richiedono, quindi abbiamo fatto una prima richiesta a maggio, una seconda richiesta, sollecitazione è stata fatta a fine giugno, quindi non abbiamo proprio nessun problema, quindi mi dispiace per questa situazione che poteva essere prevenuta e potevano iniziare i lavori poco prima.